Oggi sono qua per fare una preghiera, per passare al migliore esami, per iniziare un buon anno alle scuole superiori e continuare. Tutti in preghiera perché la maturità e anche ogni altro test di studio abbiano successo. Chiedo a San Giuseppe la protezione di tutti gli studenti e di tutti coloro che vogliono rivolgersi a lui per la guarigione non solo del corpo ma soprattutto del cuore. Centinaia di studenti alla messa ieri sera nel santuario di San Giuseppe a Copertino, nella chiesa leccese del santo, protettore degli studenti sotto esame e anche degli aviatori, in tanti hanno celebrato i 416 anni dalla nascita del loro patrono. Giuseppe Desa, questo è il vero nome del santo, venne ordinato sacerdote dopo il difficile superamento degli esami, superamento considerato prodigioso per le difficoltà incontrate. In questo giorno in cui ricordiamo il suo compleanno è tradizione l'affidamento degli studenti al loro santo patrono perché possano superare brillantemente i loro esami.